All'essenzio, perché poi nell'associazione ce ne capita di casi, cioè noi che stiamo veramente quasi ogni giorno, noi abbiamo avuto uno di recente che veramente devo fare un incontro personale al nostro avvocato Saltucci perché veramente ci ha messo un anno, una donna che ha denunciato il coraggio di denunciare il marito violento per l'utilità a domicilio, presa coltellata, il marito è stato condannato a sette anni, l'intervento degli assistenti sociali a seguito della denuncia sono stati quelli di sottrarre alla madre i minori e sopportarli in una casa famiglia e ci abbiamo messo un anno lasciando la vittima da sola per trovare un lavoro, per fare un recupero psicologico e per dimostrare agli assistenti sociali a trovare capra, per dimostrare agli assistenti sociali, queste sono realmente le cose, che ha avuto dopo un anno la capacità, perché giustamente dopo anni di violenza, fisiche, psicologiche, la donna non può avere una depressione, no, voglio dire, nel caso in cui ci fosse il caso di depressione, la cosa che si fa, togliamo i minori, ci abbiamo messo un anno di duro lavoro e giornate intera al tribunale dei minori per arrivare finalmente a portare questi bambini che comunque avevano un rapporto sano con la madre, portarli a casa, questa è una realtà nostra, nostra locale. Ora, noi abbiamo, e io faccio un grazie personale, devo chiedere un favore a Peppe però, di interrompere la registrazione, perché...